Giallappa Show, nel cast anche un'amatissima del GFVP7. Andrà in onda a partire da domenica 21 maggio alle 21, 30, in prima visione su TV8. E in simulcast su Sky 1 il Giallappa Show, il nuovo programma della Giallapas Band. Il format, condotto dal mago Foresteria, vedrà la partecipazione di due amatissime ex vippone. Oltre alla già annunciata Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ci sarà anche Ivana Mrazova. La modella ceca è tornata nella casa della settima edizione delle reality show condotto da Alfonso Signorini in qualità di ospite. Molto apprezzata dal pubblico del programma, la Mrazova è stata legata sentimentalmente per molti anni a Luca Onestini. Concorrente dell'edizione appena conclusa. Sono stati in tanti, nel corso di queste settimane, a sperare in un ritorno di fiamma. Durante la loro permanenza nella casa, i due sono stati visti molti vicini e affiatati. L'indiscrezione in merito alla sua presenza nel cast della nuova trasmissione della Giallapas Band è stata riportata dal portale The People pochi minuti fa. L'indiscrezione in merito alla sua presenza nel portale The People pochi minuti fa.